In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero «E' per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse «Ogni regno diviso in sé stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in sé stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone, dice «Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui. Vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima». Il termine diavolo viene da dia-ballo, cioè dividere, l'esatto contrario di simbolo, cioè sumballo, cioè mettere insieme. L'arte del demonio è quella di gettare zizzania per uno scopo preciso, portare appunto la divisione. Il diavolo, lo sappiamo, vive una frustrazione immensa, quella di non poter più partecipare dell'essenza di Dio. Per questo non gli rimane che scimmiottarlo. Lui sa che la forza di Dio è la comunione, e la forza della Chiesa è l'Eucarestia. Così da una parte regge il suo regno con l'unità, proprio come dice Gesù nel Vangelo, dall'altra tenta il colpo gobo nel dividere la Chiesa, la sposa di Cristo, ma non gli riesce, né l'uno né l'altro. La sua unità non regge, perché non è costruita sull'amore, come quella di Dio, ma sulla paura, come un regime dittatoriale. E non gli riesce neppure di dividere la Chiesa, perché è sorretta dallo Spirito Santo. Ma comunque dobbiamo vigilare, come si ripete Papa Francesco. E le divisioni nella Chiesa non lasciano che il regno di Dio cresca. Non lasciano che il Signore si faccia vedere bene, come è Lui. Le divisioni fanno che si veda questa parte e quest'altra contro di queste, sempre contro. E non c'è l'olio dell'unità, il balsamo dell'unità. Ma il diavolo va oltre, non solo nella comunità cristiana, va proprio alla radice dell'unità cristiana, cioè alla celebrazione eucaristica. Io vi chiedo di fare tutto il possibile per non distruggere la Chiesa con le divisioni, siano ideologiche, siano di cupidiccia, di ambizione, siano di gelozie. E soprattutto di pregare e custodire la fonte, la radice propria dell'unità della Chiesa, che è il corpo di Cristo, che noi tutti i giorni celebriamo il suo sacrificio nell'Eucaristia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.